Che bello il Natale! Si preparano tantissimi dolci di tradizione e anche un modo per condividere a tavola il dolce preferito. Oggi io vi lascio il mio pandoro speciale, senza glutine, senza lattosio, senza burro e senza nickel. Speciale soprattutto per chi presenta come me diversi allergienti e toleranze alimentari. Grazie a tutti! Grazie a tutti!